Ciao a tutti, vediamo come possiamo tracciare la spedizione di un pacco Amazon. È molto facile, andate su Amazon e premete qua su resi e ordini e vi trovate in questa pagina. Io sono già sceso a prendere un pacco che già mi era arrivato, di cui comunque posso ancora fare il tracciamento, quindi scegliete l'ordine che avete fatto e andate su traccia il mio pacco. Da qua vi trovate in questa pagina e qua avete il numero di spedizione e questo è importante perché Facciamo intanto visualizzate tutti gli aggiornamenti e arrivate ad avere questa finestra che vi mostra lo stato della consegna del vostro pacco Amazon. Tuttavia a volte i pacchi Amazon potrebbero arrivare tramite altri corrieri e Amazon magari il tracciamento lo fa per metà o non riesce a farlo e Amazon ve lo dice è stata affidata a DHL o un altro corriere. Di conseguenza cosa dovete fare però succede poche volte, almeno a me è successo poche volte, dovete andare a cercare questo numero sulla pagina di tracciamento del corriere che viene utilizzato, quindi se Amazon non riporta qua gli aggiornamenti o nel dettaglio non li riporta, dovete andare a prendere il codice sul sito del corriere. Però Amazon ve lo dice, eventualmente sto utilizzando DHL, SDA eccetera eccetera, perciò sapete quando farlo. Va bene? Questo è quanto, facile, semplice e veloce. Se avete bisogno dei video del tracciamento degli altri corrieri ci sono già sul canale. Questo è quanto, noi ci vediamo alla prossima.